amici siamo al lago benaco e in mezzo ai sassi c'è un nido degli amori dell'abiscia tassellata natrix natrix un'atrice tassellata natrix un'atrice C'è una grossa femmina e altri tre maschi più piccoli sotto i sassi, nel nide degli amori. Siamo al lago Benaco, con le panoramiche e la zona, soffia un forte vento. Siamo al lago Benaco, con le panoramiche e la zona, soffia un forte vento. Si stanno attorcigliando, vediamo lì, la grossa femmina con i maschi più piccoli. Siamo al lago Benaco, con le panoramiche e la zona, soffia un forte vento. Siamo al lago Benaco, con i maschi più piccoli. Con i maschi più piccoli, con i maschi più piccoli. Siamo all'interno del nido degli amori. Probabilmente scapparanno. Ecco che sono scappate la femmina e le altre sassi. Faccio un altro maschio. con i maschi più piccoli. Ecco sono scappate tutte queste immagini. Amici, vi saluto. Ciao.